Ben trovati al Tg Sordi di Lecce 7. Sabato sera tragico sulle strade salentine. Ben due gli incidenti mortali registrati in poche ore sulla Casa Rano Taviano e sulla Lecce San Cataldo. A perdere la vita due centauri, un 38enne di Racale e un 36enne di Lecce. Ancora dibattito sui rincari per i servizi al bar e ai ristoranti. A far discutere la scelta di una gelateria leccese. Di debitare il costo di un euro per dividere una creppo in due porzioni. Sciocco nel capo di Leuca per l'improvvisa morte di Antonio Bisanti. Il 72enne ballerino conosciuto come Uccio Sciocco. L'uomo è stato travolto da un treno tra Montesano e Emigiano. Tutto pronto per la notte della Taranta 2023. Super ospite del concerto di Melpignano diretto da Fiorella Mannoia. Sarà la cantante Arisa. Il capoluogo si prepara alla festa in onore di Santo Ronzo Giusto e Fortunato. Nei prossimi 24, 25 e 26 di agosto. Attivato come ogni anno, un servizio di navette gratuito da e per il centro e in Luna Park. Successo in casa contro la Lazio per il Lecce alla prima di campionato. I giallorossi hanno rimontato un 1-0 pochi minuti prima del fischio finale. La partita si è conclusa dunque 2-1 con reti di Anquist e di Francesco. Grazie a tutti.